Presidente, desidero dire con estrema chiarezza che la richiesta del deputato San Martino non fa onore né a lui né a questo Parlamento. Lei si dovrebbe vergognare, il deputato San Martino, in una, in una, in una, ci si chiede la parola, chiede la parola, tanto io sto lasciando l'aula, stia tranquillo. Il momento in cui tutta la comunità siciliana si aspetta chiarezza da questo Parlamento, nella legge di stabilità, lei chiede di votare di nascosto. Si vergogni lei e chi assaconda la sua richiesta. Io per protesta, signor Presidente, abbandono l'aula e mi creda è un fatto epico al quale non posso assolutamente aderire. Si vergogni deputato San Martino, mi auguro che di lei e di quelli come lei si possa presto occupare ben altro palazzo.